Gli ospedali, sorti quasi sempre nei centri cittadini, una volta dismessi per lasciare posto a nosocomi moderni, più grandi, facilmente accessibili, con parcheggi adeguati, diventano spesso dei buchi neri. Accadde al San Camillo a Treviso, così è ancora per il mestrino Umberto I. A Belluno, dopo molti anni di discussione, di progetti come l'idea di un cinema prima lanciati e poi cestinati, sopra il parcheggio Caffi c'è una piazza cinta per due lati ed edifici storici come Palazzo Campedel, per gli altri due da una costruzione completamente nuova. Hanno fatto un buon restauro della zona e del vecchio ospedale di Belluno. La prima volta che entro in questa piazza qui, quello che vedevo prima era abbastanza degradato, adesso la vedo molto bella, molto bella, sono rimasto stupito, di fatti sono entrato dal portico là e ho visto una luce stupenda qui per Belluno. Io non sono di qua, però c'ero stato quando era in inizio del lavoro e ho visto un bel cambiamento, complimenti. È abbastanza moderna, misto a un po' di storico, carina. Non mi piace molto, perché non mi sembra che sia in linea con il contesto della città storica. Com'era prima? Era distrutto, c'era un vecchio palazzo abbandonato, credo, no? L'hanno rifatto e è molto bello. Mi sembra ottima, anche i materiali che hanno usato sono buoni e anche i movimenti, sì, interessante, interessante proprio. L'area si trova a pochi passi dalla centrale Piatta dei Martiri, ma era ormai completamente dimenticata dei bellunesi, nonostante si appacci su Via Matteotti, Via Caffi e Via Loreto. Una storia lunga più di vent'anni vede ora quasi scritta la parola fine. Manca forse la E, perché tra la ex Banca d'Italia e i giardini adiacenti, una fontana storica da recuperare e una galleria di accesso da ripristinare, cose ancora in sospeso ce ne sono. Il più però è fatto. Sta ai bellunesi decidere ora se sarà una piazza che vogliono vivere oppure no.